e altri numero 1.344, concernente iniziative a favore delle popolazioni di territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che sono state attesi presentate le mozioni di Terzone ed altri 1.358, Zaratti ed altri 1.359, Carresce ed altri 1.360 e Saltamartini ed altri 1.361, che, vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno, verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare l'onorevole Massimiliano Berlini, che illustrerà anche la mozione 1.358, di cui è cofirmatario. Grazie, Presidente, colleghi, membri del Governo. Il sisma che alle 3.36 del 24 agosto 2016 ha colpito le aree interne delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, e in modo particolare le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, è l'ottavo terremoto di magnitudo superiore a 5,6 verificatosi in Italia dal 1980, anno del terribile sisma dell'Irpinia. Ingente il numero delle vittime e i danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, alle infrastrutture e alle opere d'arte, con disagi a livello sociale ed economico difficilmente quantificabili, benché il Governo, il 23 settembre scorso, abbia fatto una prima stima di circa 4 miliardi. Dopo la tragica esperienza dell'Irpinia, venne istituita la Carta della sismicità del Paese, che consente di individuare le aree a maggior rischio e, per ogni area, il grado di rischio e il periodo di ritorno. Grazie a questo lavoro sappiamo, ad esempio, che in Italia circa 24 milioni di persone vivono in zone ad elevato rischio sismico e che negli ultimi 150 anni gli eventi sismici con conseguenze distruttive si sono verificati in media una volta ogni 5 anni. O meglio, negli ultimi 50 anni i terremoti gravi sono stati 8, concentrati tra il 1968 e il 2016. Riporto questi semplici dati perché su un punto dobbiamo essere onesti intellettualmente, accettando questo assioma. I terremoti non si possono prevedere con precisione, ma in modo generico sì. Oppure non possiamo prevedere quando una scossa si verificherà, ma sappiamo per certo dove si verificherà. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma la scienza in modo assolutamente inequivocabile. Ma allora, alla luce di tutte queste informazioni e delle nuove tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati, come mai, di fronte ad ogni evento sismico, per ultimo quello che ha colpito il centro Italia, ci scopriamo sempre così immensamente fragili e impreparati. Insomma, perché questo Paese e le istituzioni non riescono proprio ad imparare dai propri sbagli e dalle proprie sottovalutazioni? Noi del Movimento 5 Stelle vorremmo invertire questa tendenza e per questo abbiamo depositato la presente mozione, molto articolata, visto che conta 60 impegni, frutto del confronto con esperti, amministratori e cittadini. Naturalmente siamo consapevoli del fatto che una mozione non è sufficiente. Serve subito una legge quadro sulle calamità, quindi anche sui terremoti, in grado di guidare tutte le operazioni necessarie, che detti le competenze specifiche e i tempi necessari per l'attuazione e l'erogazione dei fondi. Senza quest'atto normativo ogni sisma che si verificherà sembrerà essere sempre il primo sisma, con una macchina che ogni volta riparte da zero, con esperimenti, varianti e aggiornamenti, facendo poi riferimento a fantomatici modelli che richiamano esperienze del passato, che difficilmente però si adattano alle peculiarità tipiche di ogni cratere. Nel formulare gli impegni della nostra mozione abbiamo tenuto conto di alcuni dati a dir poco allarmanti. Si ricorda, ad esempio, come l'80% del costruito risalga prima del 1981, quindi è antecedente all'obbligo del rispetto delle normative antisismiche per le costruzioni, dell'assenza di una mappatura dei fabbricati a rischio, compresi quelli pubblici, lo denuncia il Consiglio nazionale dei geologi, che il 15% delle scuole statali presenta lesioni strutturali, mentre solo il 35% delle scuole campionate possiede il certificato di agibilità statica, che un istituto scolastico su tre si trovi in zone ad elevata sismicità e soltanto l'8% sia stato progettato secondo la normativa antisismica, lo dice il quattordicesimo rapporto di cittadinanza attiva sulla sicurezza, qualità, accessibilità a scuola, presentato il 21 settembre scorso. L'obiettivo degli impegni della nostra mozione è duplice. Da una parte fa fronte all'emergenza terremoto che ha colpito il centro Italia, dall'altra di attivare una efficace prevenzione del rischio sismico, affinché simili eventi naturali non assumano più simili proporzioni. Impegniamo perciò nella costituzione di un fondo di rotazione nella legge di stabilità al fine di supportare anche gli interventi minori per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati dall'evento sismico e a garantire la ricostruzione di tutti gli edifici danneggiati dal sisma, ivi comprese le seconde case, fondamentali per il ripristino del tessuto urbano originario con copertura totale dei danni subiti. Nel frattempo, per tutti coloro che hanno perso la propria abitazione, anche se affittuali, vanno trovate soluzioni abitative dignitose che garantiscano di rimanere in prossimità delle loro residenze, potendo scegliere tra un contributo di autonoma sistemazione o il modulo provvisorio. Queste misure sono fondamentali al fine di prevenire l'abbandono delle aree colpite dal sisma, quindi la disgregazione irreversibile del tessuto sociale originario. Fondamentale è disporre anche la sospensione e rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui sulle case inagibili, fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio senza oneri aggiuntivi per il mutuario. Sempre nell'ottica di prevenire la disgregazione del tessuto sociale, bisogna sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate attraverso indennizi e sostegni al reddito. Fondamentale è questo, è un elemento di forte criticità che si riscontra nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto, che ai titolari degli esercizi commerciali istituati nei centri abitati non più agibili venga data la possibilità di proseguire la propria attività in box o moduli produttivi provvisori. Inoltre, vista la vocazione agricola delle zone colpite dal territorio, è necessario installare immediatamente, per questo abbiamo indicato perentoriamente la data del 15 ottobre, delle strutture di ricovero anche provvisorie per gli animali di allevamento in prossimità delle aziende, degli impianti di mungitura mobili, nonché di provvedere alla fornitura di foraggio e mangimi zootecnici. Ci giungono infatti molte segnalazioni di come ciò non stia affatto avvenendo. E a parte gli spot del Ministro Martina, insieme alla Col di Retti e degli altri programmi delle giunte regionali, molte aziende zootecniche sono sprovviste di ricoveri e alimenti per gli animali. La situazione diverrà insostenibile al sopraggiungere l'inverno, quindi tra poche settimane, quando molti animali periranno a causa delle intemperie o saranno svenduti o regalati dagli allevatori che non li vogliono veder morire, mettendo di fatto in ginocchio l'economia di quei comprensori che sussiste proprio grazie al settore primario. Dovete fare presto. Servono inoltre moduli abitativi per l'intero nucleo familiare da installare in prossimità delle aziende per far sì che l'attività possa essere condotta normalmente, senza oneri aggiuntivi dovuti agli spostamenti. Tra le altre misure a sossegno del settore agricolo ed agroindustriale, che come abbiamo visto è l'elemento di coesione economico-sociale delle zone rurali, la copertura con risorse nazionali della quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020, l'anticipo dei pagamenti PAC, l'attivazione di strumenti finanziari da parte dell'ISMEA ed altro ancora. A favore dei lavoratori subordinati, dipendenti e autonomi di piccole e medie ditte e imprese familiari impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, impegniamo il Governo ad attivare forme di sostegno al reddito con relativa contribuzione figurativa e la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e la deroga della disciplina dei criteri requisiti e condizioni ordinarie di accesso alla NASPI per i lavoratori stagionali. A favore delle amministrazioni locali, bisogna escludere dai vincoli del pareggio di bilancio per gli anni 2016 al 2020 le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente in conto capitale, sostenute dalla Regione, dalla provincia e dai comuni, nonché le risorse proprie di tali enti, impiegate per far fronte all'emergenza sismica e alla ricostruzione degli edifici pubblici. Necessarie anche tutte le iniziative per istituire un fondo di compensazione per i mancati introiti da imposizione fiscale, IMU, TASI, TALES, per tutti i comuni del cratere, nonché la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, oltre ad un contributo straordinario sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate derivanti dalla situazione emergenziale per assicurare la continuità dei servizi primari garantite dalle multiservizi. Per quel che concerne la ricostruzione, chiediamo che ci si avvalga della collaborazione dei comuni, delle imprese locali, delle parti sociali, degli ordini tecnici e dei cittadini, con quest'ultimi che potranno avere contezza dello stato di avanzamento dei lavori e delle disposizioni attraverso appositi sportelli unici. Fondamentale che le aziende che intendano partecipare ai lavori di ricostruzione, anche su immobili privati, siano inserite nella white list, verificandone la regolarità attraverso le prefetture. Come precedentemente accennato, è assolutamente fondamentale investire nella prevenzione e nella sicurezza degli edifici, per contenere la devastazione dei futuri terremoti. Proponiamo perciò di istituire la settimana della sicurezza e della prevenzione sismica, di organizzare esercitazioni e simulazioni periodiche antisisma che coinvolgano la popolazione, partendo dalle scuole, di mettere a conoscenza di ogni cittadino i piani comunali di emergenza e di utilizzare la comunicazione sociale per promuovere la cultura della gestione del rischio sismico. Altresì importante, il monitoraggio di tutti i piani comunali di emergenza esistenti per verificarne la correttezza e l'aggiornamento, oltre all'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti. E ancora, servono strumenti normativi e fiscali per l'adeguamento e miglioramento antisismico delle costruzioni. Bisogna completare la verifica sismica delle opere infrastrutturali e degli edifici strategici e rilevanti, prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, numero 3.274. Si introducano agevolazioni fiscali, anche del 100% in dieci anni. Si preveda la stabilizzazione dell'eco-bonus, anche per gli interventi di adeguamento sismico. Infine, Presidente, è assurdo che non vi sia ancora un catecolico divieto alla realizzazione di impianti di stoccaggio ed estazioni di idrocarburi, di edifici pubblici e scuole, di invasi acquiferi, ecc., in corrispondenza di faie sismogenetiche attive. Per questo, nella nostra mozione, chiediamo che siano previste delle misure specifiche per la messa in sicurezza di alcuni sistemi di captazione e invasi. In merito al reperimento delle risorse economiche per il sisma, chiediamo al Governo se ha provveduto a presentare la domanda per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per le grandi calamità, se ha individuato risorse sui fondi strutturali e di investimento europei relativi alla programmazione 2014-2020 e se stia pensando ad una tassazione del gioco d'azzardo o alla riduzione delle indennità di parlamentari, sindaci, presidenti di regione, consiglieri comunali e regionali, ecc., tutte misure che ci troverebbero assolutamente concordi. Concludo, Presidente, ricordando brevemente gli altri impegni della nostra mozione, come quello di realizzare un'efficace rete di assistenza psicologica nei confronti dei familiari delle vittime e delle persone coinvolte nella calamità, che resti operativa anche dopo la fase emergenziale e nel periodo della ricostruzione, di provvedere all'installazione di MAP, moduli abitativi provvisori a risparmio energetico, evitando così che gli inquilini debbano sobbaccarsi onerose bollette Enel, come capitato durante il sisma del 2012. Visto che all'indomani del terremoto del 24 agosto il Premier Renzi invocava lo spiro di coesione nazionale, sono e siamo convinti che tutti gli impegni di tutte le emozioni verranno accolti senza riformulazioni, altrimenti dovremmo prendere atto dell'ennesima promessa non mantenuta o, peggio, dell'ennesimo spot governativo. Concludo ricordando che oggi, 26 settembre, ricorre l'anniversario di un altro sisma, quello delle Marche e dell'Umbria del 1997. Speriamo perciò che si faccia a tesoro una buona volta di tutti gli errori e di tutte le sottovalutazioni. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Zaratti, che illustrerà anche la sua mozione 1.359. Ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Signor rappresentante del Governo, a circa un mese d'alzisma la situazione resta difficilissima, soprattutto perché l'inverno in quelle zone è molto precoce. Abbiamo ancora 3.027 persone, diciamo, che sono alloggiate in alberghi o con le strutture allestite per dare ricovero appunto a queste persone che sono state vittime di questo devastante terremoto. Abbiamo di fronte una situazione, dicevo, emergenziale, che purtroppo, diciamo, è un po' conseguente e abbastanza, come dire, frequente nelle nostre politiche, perché insomma, di fronte a eventi catastrofici come questo, la risposta...